Per rallentare la falcata del Chieti e soprattutto per riprendere contatto con le prime posizioni di Eugenio, fila il suo attacco Casati, Buffetti e Criscolo a rifornire il rapace. Simone Miani, ma i neroverdi, scendono nel campo al Petruzzi di Città Sant'Agelo con il piglio della capolista Francesco Siragusa. Il più pericoloso sostituisce alla grande sulla fascia mancina Manfredo Pietrantonio e ci prova due volte a portare in vantaggio il Chieti. non fa affatto sentire la mancanza di Pietrantonio risparmiato precauzionalmente da Alessandro Lucarelli che non può contare nemmeno su De Fabriti se è spada fora. Il corner di Marco Mariani liberato, filosa che svetta, anticipa pure consorte Casati. Non riesce a liberare sulla linea il gol dell'1-0 Chieti. Il decimo marcatore stagionale filosa per la squadra teatina la sblocca lui, ma il Chieti vuole subito il raddoppio in velocità. Fabrizi schierato in attacco al fianco di Galli in ritardo. Casimirri chiude Alessandro Puddu, uno dei migliori dei suoi. Quindi colpo di petto e conclusione di Guido Galli che si perde sul fondo. Convincente il Chieti nel primo tempo ma si propone anche l'angolana con Casati. Matteo Forti a sbaglargli la strada all'esterno dell'angolana, autore di tre gol in questo primo scorcio di campionato. Chieti che insiste ancora in ritardo. Casimirri si salva con l'ausilio del palo Puddu. Su Fabrizi che riceve da Guido Galli Chieti atomico nel corso della prima frazione. Ancora Luca Fabrizi servito da Marco Mariani in uscita. Alessandro Puddu e Chieti in vantaggio all'intervallo ma con un solo gol di differenza rispetto ad un'angolana che prende decisamente coraggio nella ripresa. E con Alessio Criscolo mancino volante da posizione ravvicinata che si perde sul fondo. Il segnale che il secondo tempo non sarà una passeggiata per il Chieti che però colpisce. Un incrocio dei pali dopo l'impostazione di Verna con Luca Fabrizi che ha la meglio su Cichella e Scheggia. Un altro legno sfortunato l'ex Castelnuovo il Chieti cambia volto all'attacco fuori Galli e Fabrizi dentro Rodia. I cramellà cambia assetto pure De Eugenio il quale deve rinunciare a Nardone, Mucciante e Gianmarino. La rovesciata di Mattea Rodia che non ci pensa su due volte splendida la girata dell'attaccante che trova la risposta del giovane Alessandro Puddu autentico protagonista allo stadio Petruzzi salva ancora il risultato ma adesso ci crede l'angolana. Prima però la segnalazione di fuorigioco sui cramellà protesta il talento marocchino che si prende anche il giallo super. Matteo Forti su Salvatore Festa come un gol. Regge la difesa a nero verde solo due gol al passivo dopo un intero girone ma insiste l'angolana. Tutta protesa in avanti a provare a cingere da sedio il Chieti nel finale. La testa di Simone Miani che si perde fuori una prova di spessore da parte degli uomini di De Eugenio ma il Chieti è inarrestabile una vittoria che può valere una stagione dal peso specifico notevole. Un chiaro segnale per le altre pretendenti alla Serie D. Blindato il primo posto il ruggito di Alessandro Lucarelli allo stadio Petruzzi di Città Sant'Angelo. Angolana 0 Chieti 1